Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Non penso ci sia bisogno di presentazioni per farvi vedere il manuale del gioco di ruolo che ho davanti. Parliamo del gioco di ruolo di The Witcher a cura della Talsorian Games e portato in Italia, localizzato... Poi ovviamente ci hanno lavorato anche la CD Project Red. Portato in Italia e localizzato dalla New Games, che io ancora una volta ringrazio. Grazie di cuore ragazzi, è un onore collaborare con voi e grazie per avermi offerto questa copia per la recensione. E poi portato sul grande mercato italiano da Asmod Italia, che ancora una volta ringrazio veramente di cuore. E questo è il manuale che vi ho citato l'altra volta, nello scorso video, se vi ricordate, nel video di 7C, dove vi dicevo il lavoro che ha fatto impeccabile la New Games, che non soltanto l'ha preso dalla Talsorian, l'ha tradotto, l'ha messo a posto, magari se è qualcosa che non tornava, l'ha ricorretto in paginazione e tutto, ma ci hanno aggiunto, ci hanno lavorato proprio sopra e hanno aggiunto anche magari note particolari. Infatti è molto bello questo manuale qui, perché ci sono due narranti in questo manuale. Cioè gli esempi, che vedete in tutti i classici GDR, che vi spiegano questo, questo o quell'altro aspetto del gioco, in questo gioco sono narrati da un nano, che è stato un grande guerriero, un combattente, e se non erro dal preside Brandon, qualcosa si chiama, dal preside dell'università di Novigrad. E quindi è molto bella come Oxenfurt, si dovrebbe chiamare qualcosa del genere. Quando uno va a comprare un gioco di ruolo, molto più che non un gioco da tavolo, si aspetta la perfezione. Perché in un gioco da tavolo ci può essere quel pezzettino carente, quella traduzione magari che salta, non fatta tanto bene, però è tutto un complessivo, no? Alla fin fine, se il gioco funziona e le meccaniche ci sono, puoi saltare sopra due o tre errori. Però un GDR deve essere impeccabile, perché oltre a questo, insomma, non è che tu ci abbia tantissimo altro materiale. Ovviamente si parla di The Witcher, siamo nell'ambientazione dei videogiochi, per quanto vi ricordo che questo manuale e anche i videogiochi, l'ambientazione principale di The Witcher, la prendono dai romanzi. La prendono dai romanzi, dove si vede che c'è stata la prima guerra di Nilfgaard, la seconda guerra di Nilfgaard, la terza, che poi è quella che vi andrò ad riscrivere, e tutta quanta l'ambientazione che gira intorno al, non dirò mai lo strigo perché è bruttissimo, a Geralt di Rivia, il Witcher, infatti nel romanzo in italiano, io vi adoro, Nick Games, grazie, lo chiamano il Witcher, non lo chiamano lo strigo, come nei romanzi, per quanto al tempo fu proprio richiesta particolare dell'autore dei romanzi che il nome non venisse mai adattato. Quindi doveva sempre rimanere quello tradotto, sì, in tutte le lingue del mondo, però il senso doveva essere quello lì. Anche se Witcher è un po' difficile da tradurre, perché il Witcher cos'è? Cacciatore di streghe? No, cioè lo stregatore, come lo traduci? In italiano lo strigo era veramente brutto, io avrei usato qualcos'altro, il cacciatore della notte, non lo so, il cacciatore delle tenebre, piuttosto il cacciatore dei mostri. E in questo gioco di ruolo, come vi ho detto, l'ambientazione è quella presa dai romanzi, però rivista in chiave del GDR. Infatti il gioco di ruolo è ambientato al 100% nei videogiochi. Ora, se volete approfondire un po' l'ambientazione di The Witcher, potete anche leggervi i romanzi, anzi, dovete leggervi i romanzi perché sono bellissimi, però anche se li saltate a più e pari senza leggerli, ma avete giocato The Witcher 1, The Witcher 2, The Witcher 3, potete tranquillamente giocare al gioco di ruolo, senza aver letto, senza passare dal romanzo, dalla novella. Oppure potete direttamente comprarvi il manuale del GDR perché spiega tutto quanto all'interno, quindi vi dà qualsiasi informazione di cui abbiate bisogno. Questo manuale messo nelle mani di uno che non sa nemmeno cosa sia l'ambientazione di Geralt di Rivia, questo manuale troverà veramente tutte le informazioni necessarie e fondamentali. E poi vi do le considerazioni finali. Devo dire la verità, ho trovato un bel gioco, fatto veramente bene. C'ha un lato negativo che vi dirò poi nel corso della recensione del cosa ne penso, però è veramente, questo è la Bibbia per tutti i giocatori di The Witcher. Se avete adorato, come me, che non ve l'ho mai nascosto, è la mia ambientazione preferita, fantasy, dark fantasy, perché questo è comunque un fantasy molto oscuro, tipo Shadow of the Demon Lord, quello della Weird. E' un'ambientazione molto cupa e la cosa veramente bella è che vi ho detto si rifà ai videogiochi. Infatti questo gioco di ruolo è ambientato fra il secondo, fra The Witcher 2 e The Witcher 3. Quindi, ora, io spero di non fare spoiler a nessuno, però, insomma, sono usciti da quanto? The Witcher 2, da 7-8 anni, una cosa del genere. Praticamente ambientato subito dopo il 2, quando alla fine, non ve lo rovino, però quando alla fine Geralt affronta il drago e aiuta nella battaglia la Vergine, vi ricordate, la condottiera, e poi praticamente si passa direttamente alla fase successiva con la caccia selvaggia, Siri che è scomparsa e quant'altro, avete visto le 3. Questo si avventa perfettamente, fate conto, un anno o qualcosa del genere, prima di The Witcher 3, quindi proprio nel mezzo, durante la terza guerra di Nilfgaard, quindi durante la terza invasione di Nilfgaard. Ricordo che le prime due sono andate male, ma comunque, tra virgolette, perché tanti riami dell'ambientazione sono stati conquistati e sono sotto il gioco tirannico, tra virgolette, dell'imperatore di Nilfgaard e l'ambientazione è molto, molto, molto cupa. Quindi vi ricordo che è un dark fantasy, al massimo livello immaginabile, e tra l'altro è un'ambientazione che è molto razzista, perché l'avete vista anche su The Witcher, qui in un'ambientazione dove, dopo tutto quello che è successo con l'assassinio dei Re, vi ricordate di Temeria e quell'altro che non mi ricordo qual era, il Redania, non mi ricordo qual erano, i Witcher sono visti al solito come portatori di Shagura, sì, sono i cacciatori di mostri, però ringrazio un Witcher quando ti ha aiutato, quando l'hai pagata, quando hai finito la missione, ma se lo vedi passare per strada e non è niente a che farci, la gente lo vedrà sempre con un occhio molto, molto, molto critico, anzi saranno pronti ad inforcarlo, come successe a Rivia, a Geralt, quando fu salvato da Yennefer, se vi ricordate in The Witcher, il primo. E' un'ambientazione molto razzista, perché in questa ambientazione di The Witcher non esistono, allora, gli dèi, dei veri e propri dèi non ci sono, ora meglio, quelli di Schellige, che sono tipo i vichinghi, di questa ambientazione qui, tra molte virgolette, venerano la dea Freya, come proprio quella dei vichinghi. Poi ci sono altre divinità, c'è la divinità dell'inverno, per alcune regioni più nordiche dell'ambientazione, però non c'è un vero e proprio Pantheon, per quanto c'è l'ordine della rosa infocata, e l'ordine della rosa bianca, con inquisitori e quant'altro, ma un vero Pantheon degli dèi in questa ambientazione non c'è, perché è più il classico nostro Medioevo, mettiamola così, no? Medioevo nostro, ma anche dell'Europa, dell'Europa dell'Est soprattutto, dove le divinità si identificavano un po' con la natura, con l'ambiente, ci può essere la divinità del fulmine, che però non ha un nome, cioè magari un paese o una provincia, una regione o un feudo la chiama in un modo, e quell'altro la chiamano in un altro, oppure magari c'è le divinità della natura, la divinità dell'estate, la divinità dell'inverno, la divinità del buon raccolto, la madre terra e cose varie, quindi un vero e proprio Pantheon in questa ambientazione non c'è, e non c'è nemmeno un nome, perché come si chiama il mondo di The Witcher? Non lo so, Thea, come nel caso di Seven Sea, quindi un nome, quel mondo non lo ha. E l'ambientazione principale dove vi muoverete, che è la stessa dei videogiochi, è chiamata il continente, e sono praticamente quei reami del nord, che comprendono Temeria, Vizima, Redania, Rivia, da dove viene Geralt, e tutti gli altri più o meno importanti, le isole di Skellige, e poi a sud c'è il vasto impero di Nilfgaard, che ricorda un po', se vogliamo, anche l'Arabia, o comunque qualche impero bello potente del passato, che regolarmente invade, per conquistare il dominio anche delle terre del nord, e diventare, proprio conquistare tutto il mondo conosciuto, e in più ci sono le terre degli antichi, degli elfi e cose del genere, perché l'ambientazione di The Witcher racconta che, al solito, c'era una bella terra dove vivevano elfi e nani, razze antiche, arrivarono gli umani, sbarcarono da un continente lontano a lontano, e si presentarono come primi uomini, sempre fra molte virgolette, gli elfi insegnarono ai primi uomini la magia, ma non tutta, perché furono furbi gli elfi e saggi, gli insegnarono un tipo di magia, ma la vera magia elementale non gliela insegnarono, perché infatti poi dopo l'uomo si ribellò, decine, centinaia di anni dopo, si ribellò usando la magia che gli elfi l'avevano insegnato, per non solo farsi guerra fra di loro, ma fare guerra anche agli elfi e nani, gli elfi vennero completamente rasi al suolo e distrutti, e ora infatti sono diventati gli scoiattoli, gli scoiatel, se vi ricordate sono bande divise in gruppi, ormai un impero degli elfi non esiste più, sono divise in gruppi e fanno guerra agli invasori umani, proprio... gli elfi sono i più razzisti in questa abitazione qui, molto più razzisti, perché è vero che gli umani non possono vedere nani, witcher, elfi, gli umani possono vedere solo gli umani, ma gli elfi sono veramente incazzati neri, passatevi i termini con gli umani, li torturano, li fanno le peggio cose anche a donne e bambini, sono veramente ancora arrabbiati, senza aver dimenticato quello che gli umani gli avevano fatto, e i nani, che invece continuano a esserci, i nani non sono odiati dagli umani, sono tollerati, e continuano a vivere come mercanti, come armigeri, comunque mercenari al soldo di qualche signore, re o cose del genere, o mercanti soprattutto che, o artigiani scusate, che vivono sotto le montagne, continuano ancora a forgiare, perché le più belle armature poi sono dei nani, come tutte le ambientazioni, quindi è un'ambientazione cupa, piena zepa di mostri, misteri, maledizioni, una parte importantissima solo nelle maledizioni, di questo, del mondo di The Witcher, e è un'ambientazione molto cupa, quindi pensate subito, come nel Call of Tulu, ad esempio il richiamo di Tulu, andrete a giocare in un'ambientazione molto cupa, dove l'assassinio è l'ordine del giorno, è brutto dirlo, ma anche lo stupro, cioè temi molto forti, rapimenti, richieste di riscatto, e non c'è rispetto per la vita, proprio in nessuna forma, soprattutto con tanti che, gli umani sono razzisti con gli elfi e con i nani, gli elfi sono razzisti con gli umani, però convivono con i nani, perché comunque sono le due razze antiche, di questo antico continente, mentre tutti gli altri però, è un'ambientazione completamente in guerra, anche i regni del nord si scannano, si ammazzano di botte, invece di pensare che c'è un nemico in comune, che è Nilfgaard, che sta per invadere per la terza volta, si fanno guerra fra di loro, e in mezzo, ovviamente che li potete fare anche in questo gioco di ruolo, ci sono i Witcher, che sono cacciatori di mostri, però tante volte i Witcher vengono anche a soldati, come ad esempio Geralt, con Re Foltest di Temeria, come guardia del corpo, per quanto i Witcher si tengono sempre distaccati e lontani dalle questioni della guerra, un po' come i guardiani della notte, delle cronache del ghiaccio e del fuoco, e anche i Witcher sono stati distrutti, quindi di tutte le scuole che c'erano un tempo, scuola del lupo, scuola dell'orso, scuola dell'aquila, ce ne erano diverse, erano tipo 5, 6, una cosa del genere, è rimasta soltanto la scuola del lupo, che è quella di Geralt, e gli ultimi Witcher rimasti che la gente conosca sono, vabbè, Ciri sembra diventare una Witcher alla fine, ma non è mai una Witcher, è la signora dei due mondi, sono rimasti Geralt, Eskel, Lambert, e Vesimir, che praticamente è quello più anziano di tutti, che avete visto, che fa un po' da nonno a Cirilla, e questi sono i 4 Witcher conosciuti rimasti, quando un tempo invece ce n'erano decine, decine e decine, con molte scuole, comunque vi faccio vedere un po' il manuale, questo è il manuale, ragazzi tra l'altro bellissimo, mi garba veramente da morire la grafica, vedete ovviamente in collaborazione con la CD Project Red, perché è ambientato nei videogiochi, sì, la storia di base è la stessa, sia nei videogiochi che nei romanzi, ma la storia presente tra molte virgolette, è molto 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 diversa quella dei videogiochi, lo stesso Geralt, con la controparte dei romanzi, non c'entra veramente niente, gioco a cura della Talsorian, ripeto portato in Italia dalla Need Games, e poi lanciato sul mercato da Asmo d'Italia, bellissimo tra l'altro il disegno, fatto veramente bene con un Geralt incazzoso, con un'armatura, tipo un'armatura ad anelli, qualcosa del genere, almeno le spallerine in maglia, comunque Witcher ricordo che portano sempre armature abbastanza leggere, per quanto nei videogiochi poi lo potete vestire, anche con l'armatura a piastre, poi qui all'interno c'è una piccola avventura bellina, i petali della memoria, e che praticamente è un'avventura base, guardate bellina tra l'altro, piena zeppa di disegni, è anche una specie di mezzo fumetto da leggere, veramente bellina, ed è una piccola avventura che vi servirà per introdurvi nell'ambientazione di The Witcher, quindi questa vi consiglio di leggerla, e magari ci ambientate in avventura, se proprio non è uguale, non la volete seguire passo passo, perlomeno la usate come idea, per crearci un'avventura, ed è veramente molto carina come aggiunta, poi vabbè, guardate i disegni bellissimi, questo è il famoso combattimento, lo fa Geralt e il Drago, che vi ricordate che c'è in The Witcher 2, non lo apro ragazzi più di tanto, perché è uno di quei manuali, che è più di un tot vi consiglio di non aprirli, perché rischiate veramente di scardinarle, spaccare tutte le pagine, comunque vabbè, il sommario, il mondo di The Witcher, vi spiega ragazzi tutto, e tra l'altro è bellino, perché il libro è fatto, il manuale ha tipo di segnalibri, e vedete, la parte principale al colore blu, poi andate avanti, che ne so, la parte delle regole al colore marrone, la parte dell'ambientazione al colore verde, è bellino, perché sono un po' di segnalibri, che vi aiutano anche a trovare le cose più facilmente, perché poi ve l'ho detto, c'ha nove note positive questo gioco, su dieci, e una negativa che non mi è piaciuta particolarmente, però poi ve lo dico alla fine, l'ambientazione di The Witcher, beh, col simbolo della scuola del lupo, e tutti quanti i segni, questi qui sono i due personaggi, che vi raccontano tutte quante, ogni volta che c'è una nota al lato della pagina, a raccontarvelo saranno sempre, questo nano e il preside, se non erro, della scuola di, sì, di Oxenfurt, che è Brandon di Oxenfurt, che è l'attuale preside, ed è bellino, perché questo manuale, mi sento di consigliarlo, ragazzi, a tutti, anche chi, i GDR li fanno schifo, non gioca di ruolo, non gliene frega niente, compratelo come fosse una guida di The Witcher, perché vi spiega tutto, ragazzi, c'è la parte dei mostri, che vi spiega chi sono i mostri, tutti quanti, tutta l'ammettazione, tutti i re, tutti i regnanti, quindi uno che volesse dire, boh, lo sai, a me mi gaberebbe approfondire un po' l'ammettazione di The Witcher, compratelo, anche se non giocate, prettamente di ruolo, perché è perfetto, poi vedete, questo è il mondo, o almeno il mondo, quella parte di mondo, che andremo ad utilizzare, che si chiama il continente, ci sono le isole di Schellige, qua giù più lontano, e poi tutti quanti i regni del nord, con sotto, invece, l'impero di Nilfgaard, qua giù in basso, quindi questa è la mappa, dove vi muoverete per giocare, tutte le vostre avventure saranno ambientate qua, e poi il manuale invece vi racconta anche, vi descrive anche Nilfgaard, nel caso ci vogliate ambientare delle avventure, o anche le isole di Schellige, che sono quelle dei barbari, degli NPC più famosi, Geralt, con tutta la scheda, l'abilità, insomma, le armi, vedete le magie che ha, che poi nel suo caso sono più i segni che i magie, Yennefer, l'amata di Wengerberg, Dandelion, che nella versione dei romanzi italiani è chiamata Ranuncolo, io non ce la posso fare, poi c'è Zoltan, il nano, ve lo ricordate, grandissimo amico di Geralt, Triss, Merigold, Vernon Roche, che era delle guardie di Temeria, se non ero, di Ray Foltest, un soldato disumano, potentissimo, poi abbiamo Yorvet, che in The Witcher 2 era uno dei capi, degli Scoia'tael, quindi Elfi, come vi ho detto prima, incazzati neri con il mondo, e Leto, che invece è un vecchio Witcher, che è sopravvissuto, è un ex Witcher, che è quello, l'assassino dei Re, era lui, spero non avevi spoilerato nulla ragazzi, ma è uscito da quasi dieci anni, frappino di Witcher 2, ed è praticamente quello che ha ucciso, sia Ray Foltest, che tutti gli altri. Le razze del gioco, che sono umani, che potrete giocare, Elfi, Nani, i Witcher sono visti come una razza a parte, perché dopo aver fatto la prova, delle erbe, e bere un casino di pozioni, che le rendono più potenti, più veloci, magari li fanno anche vedere, nella notte, nel buio e quant'altro, molto più oppure, gli risanono le ferite, sono visti come delle specie, di mutanti, anzi, non delle specie, sono dei veri e propri mutanti, per questo la gente, anche li scaccia, ne ha paura, e quindi il Witcher, vi serve proprio come una razza, che poi, il Witcher è anche una delle classi, giocabili nel gioco, e i maghi, perché in questa ambientazione qui, la magia è un dono, in questo gioco, la magia la puoi apprendere, fino a un certo punto, quindi si, puoi andare a fare una scuola, e cose del genere, però, o ci nasci, col dono della magia, o non ce l'avrai mai, è un po' come tipo, tra molte virgolette, la forza in guerre stellari, o c'hai una predisposizione alla magia, o non ti verrà nemmeno insegnata, perché è inutile, prendere un ragazzino per strada, un contadino, per cosa? Portarlo dentro una scuola di magia, magari perché, per quale motivo, per buttare soldi e tempo, e non ha il potenziale, per imparare niente, quindi quando un ragazzino, dimostra in tenere età, ad avere, soprattutto la loggia delle maghe, le donne, capacità magiche, lo portano a studiare, quindi anche i maghi, sono visti un po' come razze, in questa ambientazione qui, poi, si passa alla creazione del personaggio, che è un po' macchinosa, però a me piace, detto sinceramente, perché come in Cyberpunk, che tra l'altro, non a caso è sempre della Talsorian, Cyberpunk Red, che il kit dovrebbe già essere uscito, praticamente la creazione del personaggio, è lunghina, però è spettacolare allo stesso tempo, perché dovete tirare tutto, ok? Non potete scegliere cosa, cosa prendere dalla tabella, sono nato a, sono nato a, d'altronde, come dal vivo, nessuno sceglie dove nascere, o cose del genere, sarebbe troppo bello, quindi dovete tirare la terra natale, poi magari vedete a cosa è collegato, il tiro che vi è venuto fuori, se è un dispari o un pari, o un numero sul D10, ah, dimenticavo, i dadi in questo gioco, sono il D10, per le prove, e il D6 per le armi, e poi insomma andrete a fare tutti quanti i tiri, per vedere dove siete nati, a seconda di dove siete nati, in quale regione avete preso un bonus particolare, quindi non è soltanto tirare per il vostro background, ma vi verranno fuori dei bonus per la scheda, sorte della famiglia, la famiglia è viva, la famiglia è morta e quant'altro, sorte di genitori, anche qui i vostri genitori sono vivi, erano ricchi, erano poveri, sono morti, sono vivi, e anche qui dovrete fare un po' di tiri, per poi andare avanti, situazione familiare, maggiore influenza, quindi che cosa o chi ha avuto la maggiore influenza sulla vostra vita, e andrete avanti, praticamente dovrete sprecare la prima sessione di gioco per creare le schede, però le schede in The Witcher, come anche in Cyberpunk, sono molto importanti, intanto guardate i disegni bellissimi, sono molto importanti, perché il vostro personaggio non è dei tiri di dado, non è la somma di dei valori, il vostro personaggio è qualcosa veramente di vivo, e che dado dopo dado gli avete creato un background dietro, forte, potente, che sicuramente sarà influente anche nell'ambientazione, nell'avventura che andrete a giocare, eventi passati, quindi anche qui il passato del personaggio, cose del genere, nel caso fratelli e sorelle se ne avete, nel caso siano morti dovrete andare a vedere le note di una tabella, insomma è così alleati, vi siete fatti alleati, vi siete fatti nemici, insomma tutto questo capitolo azzurro è la creazione del personaggio che vi ci vorrà tutta quanta dedicata alla prima sessione di gioco, vedete che le caratteristiche principali sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 9 sono le caratteristiche principali e queste qui sono caratteristiche collegate, ad esempio i PS che sono i punti salute, sono sempre collegati a fisico più volontà, quindi la somma di fisico e volontà divisa per 2 dal valore dei punti del personaggio, valore dei punti che ovviamente in questo caso è alto, vedete di 40, perché poi ogni volta che passerete di livello guadagnerete anche dei bonus, dei vantaggi e cose del genere, quindi comunque l'ammontare di punti ferita nel gioco di The Witcher è molto alto, ricorda per certi versi anche Dungeons & Dragons, quindi abbiamo caratteristiche principali, caratteristiche secondarie e subordinate, i cui valori sono quelle delle principali o di altre cose in particolare, anche ad esempio della classe che avete scelto, in questo caso Yennefer, vi ricordate la maga, lista delle abilità, la lista delle abilità sono date dalla classe che andate a scegliere, più altre abilità che il personaggio, anche che non fanno parte prettamente di quella classe, ma che si va a comprare, o del background. abilità esclusive, le abilità esclusive sono invece solo e rigorosamente della classe, quindi le abilità esclusive ce l'ha solo quella classe, questa atta invece sono abilità pubbliche insomma per tutti, che anche un Witcher ad esempio potrebbe avere, l'elenco delle magie, nel caso di un personaggio castante, e poi l'equipaggiamento, quindi vedete che comunque come scheda è abbastanza complessa, per poi farvi vedere quali sono le classi principali del gioco, sono armicero, artigiano, bardo, criminale, un po' come il ladro o cose del genere, il mago ovviamente, medico, mercante, prete, e per finire Witcher, ora, mi sembra scontato che qui, chiunque in un'ambientazione del genere, vi verrebbe a dire, faccio il Witcher, il Witcher è limitato soltanto a un giocatore nel gruppo, perché sennò tutti vorrebbero fare il Witcher, però, come tutte le classi del gioco, ci sono pro e contro, il pro, ah, ovviamente potete fare Witcher Donna, Witcher Elfi, Witcher Nani, so che non è molto un'ambientazione, però il gioco lo permette, anche se no, di sarebbero sempre umani, cloni di Geralt, essere Witcher vi dà dei vantaggi nel combattimento, sapete, i Witcher non sanno usare la magia, ma usano i segni, quindi non saranno mai dei maghi, ma useranno i decotti, le pozioni dell'alchimia e i segni, e sono dei grandissimi combattenti, hanno l'abilità di vedere anche al buio, per il fatto della prova delle erbe che hanno fatte, che gli ha reso gli occhi come quelle di un gatto, però i Witcher hanno dei malus al carisma, ad esempio, hanno dei malus alle emozioni, alle sensazioni, un Witcher non prova paura, mai, in nessun caso un Witcher si caga addosso, ho detto proprio, in termini, consentitevelo, un Witcher non ha mai paura di una situazione, che può essere un bene o un male, perché a volte la paura è anche saggezza, vuol dire, muoviti a scappare, potresti morirci, un Witcher prova emozioni, ma dieci volte in più sopite, rispetto a un normalissimo essere vivente, laddove una persona si innamora, magari di una donna che gli piace, un Witcher non lo fa, poi, ovvio, un Witcher può provare interesse per una donna, può provare una sorta di amore, comunque, uno dei, degli effetti indicati della prova delle erbe, prima di diventare cacciatore di mostri, appunto, essere più sopito sulle emozioni, quindi un Witcher, anche a livello di carisma, per parlare, lasciate sta Geralt, che è un caso eccezionale, ma anche parlando prove di carisma, e cose del genere, vedete che è una specie di, fantoccio, un Witcher è, una creatura, creata magicamente, e con la chimica, per distruggere mostri, e fare quelle missioni lì, tolto dal suo lavoro, è per questo che la gente li odia, perché tolti dal loro lavoro, i Witcher sono dei fantocci, tra molte virgolette, senza un'anima, e quindi, non mi sembra a me un malus da poco, e queste sono le classi del gioco, quindi, un Witcher nel gruppo, tanto comunque in tutti i gruppi, ci sarà per forza, perché, oh, è normale, come voler giocare alla leggenda dei Cinque Anelli, e non poter fare il samurai o il ninja, quindi mi sembra scontato, anch'io lo vorrei fare il Witcher, se giocassi a questa ambientazione, e poi c'è la descrizione di tutte quante le statistiche, vi parlo un po', oltre, vabbè, ci sarebbero tante cose a farvi vedere, c'è addirittura il sistema per costruire le armi e raffinarle, poi in fondo, come vi ho detto, qua giù, bordo verde, ci sono tutte quante le ambientazioni, Temeri, Aiden, vedete, per poi arrivare fino a un fondo, che c'è la parte segreta del Dungeon Master, con la descrizione dei mostri, e quatt'altro, il gioco sfrutta due dadi, il sistema di gioco è facile, per quanto nel manuale uno veda, tre miliardi di tabelle, e si possa mettere paura, il dado da 6, che è il danno delle armi, e il dado da 10, che è il dado per tutte le prove, in qualsiasi, non vi sto nemmeno a fare troppi esempi, perché è il classico gioco, come vi ho fatto vedere già nella TGDR, che ha, tipo, proprio come nel sistema di Cyberpunk, caratteristica, abilità, collegata alla caratteristica, più il tiro del D10, ora, se una prova è contrapposta, ovvero, io vado ad attaccare un bersaglio, la difficoltà che dovrò superare, sarà sempre, che ne so, la difesa, o i riflessi, o l'armatura, insomma, o quant'altro del mio bersaglio, quindi magari, se la difficoltà per colpire il mio bersaglio, fosse di 10, o fosse di 14, io dovrei, che ne so, sommare, quanto c'ho di abilità al combattimento con la spada? 7, quanto c'ho di riflessi per colpire con la spada? 6, quindi 7 più 6 fa 13, in più ci tiro il dado da 10, che ho avuto anche molta fortuna, mi è uscito 10, e lo vado a sommare al mio risultato, vi ricordo che il 10 è un critico, quindi quando tirate un 10, automaticamente dovete tirare un altro dado, e aggiungerlo a quello di prima, se tirate un 1, invece un malus, quindi se tirate un 1, dovete ritirare un altro dado, e quello che venne dopo, invece, lo andate a sottrarre dal valore, insomma, dalla prova, quindi andate sempre a levarlo come malus, tutto lì, il regolamento dice questo, voi andate a tirare per colpire un nemico, superando le sue difese, e superando la sua armatura, che ora poi vi faccio vedere a parte, mentre invece se c'è da fare una prova, che non riguarda prettamente un combattimento, qualcosa di fermo, immobile, morto, come voglio alzare un ferito da terra, voglio, cioè qualcosa che non mi risponda, voglio provare a sfondare la porta, oppure voglio semplicemente buttarmi da una finestra, e atterrare 6 metri sotto, il tiro sarà sempre un'altra volta, abilità, più caratteristica, poi nel caso di sfondare la porta, basterebbe anche unicamente un tiro di caratteristica, comunque di solito il 99% è caratteristica, più abilità, più il tiro di un D10, e il Dungeon Master vi darà una difficoltà, difficoltà che è 10 per una prova facile, magari 14 per una prova media, 16 o 18 non mi ricordo per una prova difficile, per poi andare su prove impossibili e leggendarie, che sono addirittura difficoltà a 30, però una prova leggendaria, prendendovi l'esempio del Signore degli Anelli, potrebbe essere Bard, che è un arciere famosissimo, che cerca l'unico spiraglio nelle scaglie di Smaug, e cerca di trafiggere l'arcuore con la freccia, quindi fare un tiro del genere in un Drago che sta volando, e cercare di prendere proprio in quel punto, in mezzo alle scaglie, per trafiggere il cuore, difficoltà a 30, allora voi andate a sommare caratteristica, più abilità, più tiro di 10, e sperate che vi vengano vari 10, come in questo caso qui, per alzare la prova, e poi c'è il tiro del dado, magari la vostra arma fa un D6, un pugnalino, magari ne fa 4, 5, 6, ci sono armi anche che fanno 6 di 6, tirate i vostri danni da 6, ci mettete tutti i bonus del caso, magari dati dalla forza, perché la forza aumenta il danno che fate con le armi, e che ne so, avviene un risultato di 20, andate a vedere il livello di armatura del vostro bersaglio, che magari c'è un'armatura media, e le dà armatura 15, quindi sottraete sempre il livello di armatura dell'avversario, da danni che avete fatto, 20, meno 15, 5, i 5 danni che restano, sono i danni che gli avete fatto, e ora arriva una cosa che adoro, sono i danni che gli avete fatto, puri, e andate a scalare direttamente i punti ferita, passati questi 5 punti ferita, l'armatura è rotta, è danneggiata, perché come farebbe a passare un colpo, se ovviamente c'è l'armatura, se sono arrivato addosso a farti i punti ferita, vuol dire che te l'ho passata, sempre nel caso che non abbia un perforante, come danno particolare, e cose del genere, quindi se il valore dell'armatura era 15, passato il colpo e subite le ferite restanti, diventerà 14, scalerà di 1, poi 13, poi 12, poi 11, insomma, se un giocatore per tot avventura non ce la fa ripararla, e dopo aver subito 15 danni, l'armatura arriverà a livello 0 e sarà rotta, però, prima di vedere il, prima di levare i punti all'armatura, o vedere se un personaggio ha un'armatura, in quel pezzo, in quella parte del corpo, vi ricordo che in The Witcher, la maggior parte delle armature sono composite, e nel manuale ve lo spiega, che ne so, un gambeson messo addosso, vi potrebbe prendere, che ne so, fino all'inguine, vi potrebbe coprire le spalle e il petto, però se vi colpiscano, a volte, dipende poi dal gambeson, perché ci sono anche quelle a maniche lunghe, comunque se vi colpiscano alla testa o alle gambe, non avete armatura 15 o 10, perché in quel punto, il gambeson non vi copre, tralasciamo i mostri, che mostri hanno regole particolari, quando combatterete un qualsiasi altro avversario, il colpo è andato a segno, sì, no, vedete sempre la difficoltà e quant'altro, prima di vedere i danni, e vedere se avete passato l'armatura, c'è una tabella apposita, dovete ritirare il D10, vedere il risultato che vi esce, e vi potrebbe venire fuori, che ne so, l'avete colpita la testa, lo avete colpita il braccio, si possono fare anche colpi mirati, uno può dirlo automaticamente, si prende un malus alla prova, e dice ok, lo voglio decapitare, però se uno tira normalmente, non sai mai il colpo dove va a finire, potrebbe andare a colpirgli la testa, e nel caso il giocatore avesse armatura 15, ma non ha l'elmo, voi non dovrete tirare i vostri 20 danni, meno il valore di 15 d'armatura, del vostro nemico, del bersaglio, perché lui non ha elmo, cioè non ha difesa alla testa, quindi quei danni, se li andrà a prendere tutti, se non avete difesa, l'unica cosa che potrebbe scalare un po' di danno, magari è la resistenza del personaggio, che è particolarmente grosso, resistente, quindi magari resiste un po' al colpo, però ricordatevi, prima di andare a tirare per i danni, vedete sempre la locazione che avete colpito, anche perché ad esempio un colpo alla testa fa danno per 3, quindi se fosse entrato un 20 alla testa, sarebbe stato un 60, cioè lo ammazzavate sul colpo, quindi come potete vedere, i punti feriti in The Witcher GDR sono tanti, ma come in Cyberpunk, che vi ricordo io sono morto al primo scontro a fuoco, ci ho messo un'ora a farmi il personaggio, quel giorno lì mi giravano le scatole a morire, un'ora per farmi il personaggio, e 10 minuti per perderlo, i punti feriti sono tanti, ma entra un colpo messo bene alla testa, siete finiti, e queste ragazzi sono le regole del gioco, il gioco gira tutto intorno al tiro del D10, per qualsiasi tipo di prova, e il D6 per invece tutto il resto dei danni. In conclusione ragazzi, questi qui sono come vi ho detto dei dadi unici da utilizzare per il gioco, quindi vabbè, chiunque giochi di ruolo li avrà sempre, a differenza del D&D, che mi ricordo che ti serviva da Dora 3, da Dora 4, da Dora, mamma mia, cioè c'era veramente da impazzire. Allora, per andare, anche perché vi è durato particolarmente tanto, se devo andare alle conclusioni, e ora poi vi dico il perché, e devo dare un voto al GDL di The Witcher, gli do un 8 su 10, meritatissimo, se lo merita davvero di cuore, però, sono sincero e onesto come sempre, avrei potuto dargli tranquillamente, per come è fatto, impaginate, tutto, gli avrei potuto dare anche un 9, un 9 e mezzo, però, vi devo dirla, perché poi aspettate, c'ha tutti i punti aggiuntivi, per il fatto che questa è la Bibbia, di The Witcher, cioè, ve lo giuro, ma vi do un consiglio d'amico, non giocate giochi di ruolo, non ve ne frega nulla, non vi garbara, non c'avete il gruppo, comprate l'uguale, perché, c'è scritto tutto, dell'ambientazione di The Witcher, sembra quasi una guida ufficiale, quando ero comprati per i videogiochi, c'è scritto tutto, dall'A alla Z, quindi è veramente bello, però, per quanto è regolamento sia facile, anzi, se non è facile, è una cavolata, perché i regolamenti della Talsorian, sono facili e immediati, e tra l'altro la creazione del personaggio, è bellissima, se li devo dare, appunto, un voto, come vi ho detto, un 8 su 10, abbassato di un punto e mezzo, due, è perché ci sono troppe, troppe, troppe ragazzi, tabelle, cioè, uno impazzisce, in due ragioni, uno come me, che non ha più, non è fatto, non ho più amici per giocare dal vivo, magari ce l'ho anche, però, vuoi che ho la casa piccolina, vuoi che, insomma, ci sa che quasi 40 anni, si va a lavorare, una cosa o un'altra, è difficile trovarsi per fare una partita di un ruolo, ma sicuramente ricapiterà in futuro, il problema di un gioco del genere, è che lo gioco online, quindi Tabletop Simulator, oppure su Roll20, cioè, se io dovessi inserire tutte quante le tabelle di questo gioco, su Roll20, mi ci vuole un mese di lavoro, perché, non le posso tenere sott'occhio, visto che la gente non è con me, non posso tenermi il manuale davanti, e andarla a vedere tutte quante, volta per volta, perché l'avventura durerebbe, per fare una scazzottata in una locanda, durerebbe tre sessioni, e stessa cosa, magari anche dal vivo, magari con un gruppo di giocatori, ci sono due cose controindicate, uno, che le tabelle appunto sono tante, e tenendo il manuale, aspetta, qual era quella per il critico, qual era quella per vedere se l'arma si è rotta, perso, perché poi le armi si deteriorano e si rompono, qual è quello per vedere il bonus all'arma incantata, quante rune vanno nella mia spada, c'è 300.000 tabelle, 300.000, quindi c'è da girare, e poi questo è un manuale, come lo vedete, in copertina rigida ragazzi, questo è il classico manuale, che vi ho fatto vedere prima, e ve lo faccio rivedere anche ora, che veramente, ve lo chiedo a un ginocchio, più di così non l'aprite, veramente più, anche portarlo dagli amici, io me lo leggo così, massima apertura di questo manuale così, perché a metter sulle gambe, e aprirlo di più ragazzi, si schianta, questo si rompe, perché già qualche volta che è successo, che magari, boh, mi hanno salto il campanello, hanno lasciato completamente aperto sul letto, e mi c'è saltata magari una gatta sopra, già sento, cro 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 cro, e infatti leggermente qui dietro, un pochino si è scantucciato, e quindi un manuale, che dovete aprire, riguardare, 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 aprire, scantucciare, aprire, allargare, per poi poi sarò io, pazzo eh, però per me devono essere perfetti, io ragazzi, se apro un manuale, e ci trovo uno, che mi c'ha scritto su una pagina, con la penna, io sono buono a ricomprarlo eh, e l'ho già fatto in passato, sono buono a regalarglielo, e me lo rivolgo un po' un'altra volta, per me devono essere impeccabili, e, perché se posso li uso anche come, tanto come pezzi da collezione, per me sono cimelli, vesti qui, e quindi un 8 su 10, che comunque è meritatissimo, un gioco della madonna, anzi, se siete come me fanatici di The Witcher, e cercate un gioco in quell'ambientazione, ragazzi, questo è perfetto, le regole sono, non vi fate scoraggiare, ha uno dei regolamenti più facili, che abbia mai visto, e anzi, quello che vi dicevo l'altra volta, di Mutant Year Zero, che è facile come regolamento, è un po' più complicato di questo, c'ha qualcosina in più, questo come regole è facilissimo, il problema è che c'ha troppe, troppe, troppe tabelle, l'hanno voluto fare un po' troppo old school, come Dungeons & Dragons, l'Advanced, che era bello, io adoro, è uno dei sistemi che adoro più di tutti, col taco, però, c'ha troppe regole, cioè, devi impazzire veramente, devi fare un, o metti dei segnalini dentro, dei segnalibri, o su una pagina ti scrivi tutto, a pagina 30 c'è, a pagina 40 c'è, o ti vai a vedere sempre quanto, il sommario, nelle prime pagine, perché ci sono troppe tabelle, troppe, troppe che ti fanno impazzire, lo potevano assottigliare molto di più, però sì, è il regolamento di Cyberpunk, preso e buttato in ambientazione di Witcher, che talato ci sta veramente da paura, quindi, meritatissimo, un 8 su 10, io ancora una volta ringrazio la Nate Games, grazie ragazzi di cuore, è un onore collaborare con voi, e spero quanto prima, fatemi sistemare un attimo, perché è un po' un casino, io ho la casa veramente piccolina, spero quanto prima di riuscirci a fare delle partite, sul Roll20, penso di farcela, fuori dal Roll20, dal vivo intorno a un tavolo, con mia moglie e qualche amico, magari spero di farcela il prima possibile, prima devo trovare un pochino la locazione anche giusta, quindi grazie di cuore, Nate Games, è veramente un onore collaborare con voi, e ragazzi, in descrizione trovate il link per acquistarlo, e tutti quanti i nostri social e quant'altro, andateci a dare un'occhiata, perché merita veramente da morire, questo, questo è veramente sto manuale, anche fuori dal GDR, per il lavoro veramente bellissimo che ci hanno fatto, è la Bibbia di tutti gli amanti di The Witcher, ciao ragazzi, alla prossima!